Ciao raga, in questo nuovo video sono Littorino e siamo con l'anti con Marco Ciao, buongiorno Buongiorno, vabbè, l'onniscente Marco Buongiorno, anche a lei Vedi? In questo episodio, su questa modalità che è l'Humber Taekon 2 Molto bella, poi ci farò un video a riguardo che vabbè In questo episodio farò un tutorial come prendere la Rooki X Rookiri Lo chiamo Rooki, perché è un po' più bello Cosa dovresti fare? Calmo Nel tutto dovresti, come budget minimo, mi sembra che sia 13.000-14.000 come prenderlo Quindi, abbastanza costoso Dovresti prendere prima questo Bag of Sand Che è quello dei tre che costerà di meno Lo prendiamo Buongiorno, buongiorno Prendiamoci questo Bag of Sand I miei soldi che se ne vanno Abbasso io Che costerà sui 100? Cioè, costa 100 quindi Se ci mette tanto, lui 100 Perché tornare ci mette Costa Buongiorno Buongiorno Che poi qua c'è il cubo Eh niente, io mi sono baggato Take my money Sono baggato contro Il Così sto qui Eh niente Aspettiamo che scenda il Ah no, è già giù Bello È già giù Venga E niente Abbiamo risparmiato Bello Bello, bello Ma lo senti che per prendere la linea La handwood e il ponte invece di andare giù Su, va giù Ancora più giù Sì, lo so Quello È vero, dobbiamo andare No, dobbiamo aspettare il giorno Eh niente No, ma non devi andare qua per prendere la Sì, la light bulb Ah beh, eh, timelapse Sì, la light bulb 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 Sì Ok ragazzi Qua è Mega timelapse Avrò fatto Presumo di sì E' aperto finalmente Dentro questo Fancy Vabbè, questo Giorgio Frasco Buongiorno dobbiamo prendere, dobbiamo andare qua in fondo e prendere la lampadina la lampadina buongiorno, ue Marco, te hai preso quelle lampadine? ti piacciono le lampadine? lampadine troppo costose sono le lampadine mi la faccio, minchè mi ricordavo che costasse un po' ok troppo costose era la lampadina, non mi piace comunque mi sa che non era 12.000 ma era un po' di meno però comunque costava vabbè poi facciamo i conti dopo si poi facciamo i conti metterò a schermi i conti eh con calma ora dobbiamo andare dal nostro che può fare di fiducia, no aspetta riprendere sai quanto ridò se finisci in acqua si in acqua finisce il vino no finisce il canale bisogna andare in questa baracchetta del coso che c'ha una cosa molto bella che bisogna andare che bisogna andare buongiorno guarda che cosa c'ha bisogna appigliare questo questo qua i miei reni vai buongiorno è una forma non c'è una dinamite eh piglia anche la dinamite eh piglia 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 che ti fa bene la piglia te lo piglia no no bro fammela piglia a me piglia te piglia te grazie grazie eh no piglia questa cosa che questa qua questa è più bella eh vabbè eh vedi eh vedi vai ma c'è una banca milanite eh shh costa 220 poi quant'è shh te scusa te scusa te scusa te scusa non mi fa più la macchina mi devi ospitare nella tua no no devi scegliere di entrare nella macchina è un banca vedi però entrare e ora dovrò mandare ok vai 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 si succede a sto server qua vai ora dobbiamo andare nella zona ci stai bagando tu ok ora dobbiamo ritornare nella zona principale poi dobbiamo andare nella zona innevata in un punto che tra poco vedremo tanto vi dico che io ogni tanto sono in live su twitch e potete venire tranquillamente poi vedrò anche nei consigliati il canale di Marco che ha creato da poco su canale youtube e vorrei che lo seguite anche voi intanto buongiorno permesso posso passare? aspetta aspetta no 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 lo pago io lo pago io tu hai pagato già te lo faccio vai per te vai per te grazie Marco vai faccio io 100 per il ponte ok vai 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 niente non mi posso andare e di fare la cosa cioè se poi non ti riesci niente adesso faccio di nuovo il mio volto per andare indietro come prima no mi stai bloccatando ok no non mi stai bloccatando la macchina non ci scontriamo Marco che si esplode stai che si deve che si esplode il fin di mondo niente non parte? eh no non parte eh basta su dai andiamo vabbè tanto io vado ok ragazzi ora quando siamo qui dobbiamo andare nella zona innevata che vedete questi sassi qua in fondo è quella zona lì che ora ci andremo con tutta la mia calma che ci metto un po' però ci arriveremo questa qua quanta roba ha si vabbè ma cos'è il tuo affare? beh guarda quante asci sopra si fatti vabbè questo ci nerda peggio di infiti no 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 il problema è che gli infiti li vede sei bloccato? no il problema è che gli infiti li vede i miei video ah ok in sabbia in sabbia in sabbia taglia 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 non la taglio per il principio taglia taglia non la taglio questa parte però vabbè io non lavoro adesso lì va bene proprio gli alberi qua in mezzo al cazzo dovevano essere benissimo ora dovete pigliare questa dinamite molto tattica vedete? potete boostarla ah no no non lo so shhhh ora bisogna prendere per evitare di buggarsi tutto prendere e metterla esattamente qua detonarla scappa marco scappa non mi venia rosso che si explode tutto no no ora che siamo si a destra si a destra ora che siamo in una zona ehm nevica nevicosa come si dice nevicata 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 vedi in nevata in nevata il mio italiano il mio italiano è fortissimo non mi ricordo dovete trovare su di fianco di questo muro una zona dove c'è tipo un'aquila rossa un'aquila e' un'aquila ma non mi ricordo manco dov'è io mi sa che è in qua si è un botto mario elevati è mario vabbè mario ma ecco la quattro ho trovato niente perché la famiglia ecco ora che non ora vede qua la proposta è l'acquilla ora c'è il progetto dobbiamo aprire attiva aperta per favore che ci lanciano entro aiutati che ti aiuta a portare vittimini vittimini famiglia giusto dentro letto permesso sono cadute ora vedete siamo qua fatemi la foto se no non mi ricordo come andava messo dovete prendere il can of worm metterlo da mangiare a lui tanto alzo il volume perché ci sarà una musica bellissima can of worm bag of sand a lui e per finire ragazzi rialziamo un pochino il volume la si dite che la musica sta un pochino cambiando la lamparina a lui ecco lui arriva dall'alto dei cieli dietro marco zitto signori ed eccoci la picca mario mario fai la copertina fai la copertina 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 marco ti metti white perché non me la fa prendere a me la fa prendere ok ci sono l'ho preso l'ho preso piccolo inconveniente tecnico piccoli scappa 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 corri corri no si può essere già richiuso dai possibile bestemmio se si è già richiuso poi ora vieni che facciamo l'altro no prima facciamo una cosa levati dalla macchina levati dalla macchina torno a fare un botto di rumore ok ok ragazzi ora proveremo questa rookie x com'è cioè com'è veloce la differenza con questa qua quella lì silver non è male molto più velocemente accetta è tipo una silver molto più potenziata che il costo ve lo metterò ora qua sopra non è non è tantissimo però per essere un'accetta segreta è un bel l'iter egg coby bryan centro dentro quello di marco ma no ma che credo perché non avevi proprio bisogno di fare accessenza sì vedi tanto ragazzi io vi dico che per questo video è tutto marco se vuoi salutare saluta io saluto però dai ma perché le mani delle le mani delle palombelli guarda lì perfetto come nuovo perfetto facciamo l'opposto video quindi noi ci vediamo alla prossima da marco e da lì tutto e alla prossima alla prossima raga ciao Grazie a tutti.